Appello di Enrico Letta, PD e Giuseppe Conte, Movimento 5 Stelle, alle forze politiche affinché il Parlamento approvi la legge sul fine vita dopo la bocciatura del referendum da parte della Corte Costituzionale, è una risposta importante a un'esigenza che esiste ed è fortissima. La Corte Costituzionale ha giudicato ieri inammissibile referendum sull'eutanasia legale, provocando dure reazioni da parte dell'opinione pubblica. La palla però, a questo punto potrebbe passare al Parlamento, con l'approvazione di una legge ad hoc sul fine vita. A spingere in questa direzione sono soprattutto Partito Democratico e Movimento 5 Stelle che, attraverso i propri leader, hanno fatto un appello alle forze politiche affinché su questo tema continui il dialogo. Noi vogliamo assolutamente che la legge sul suicidio assistito vada avanti ha dichiarato ai microfoni di fanpage.it Enrico Letta, segretario del PD. Credo che si debba fare un appello forte al Parlamento perché c'è un'attesa da parte della società che deve può trovare una risposta oggi, perché le condizioni affinché in pochi mesi la legge sia approvata ci sono. Gli italiani si aspettano che il Parlamento non si fermi e non chiuda gli occhi. È una risposta importante a una esigenza che esiste ed è fortissima. Dello stesso avviso è Giuseppe Conte, leader dell'M5S, sull'eutanasia così come sulla questione cannabis. Prendiamo atto delle valutazioni della consulta ma su entrambi questi temi sono in corso di esame qui in Parlamento dei progetti normativi molto strutturati e le riteniamo che la risposta migliore la debba dare proprio il Parlamento perché questa richiesta e questa attesa non possono rimanere in evase. Il Parlamento deve assumersi questa responsabilità. Il Parlamento deve assumersi questa responsabilità.